Lei dice che il Covid sarà un'occasione per le mafie, perché? Ma è una grande occasione il Covid, perché le mafie sono quelli che hanno in questo momento soldi contanti, non hanno problemi di burocrazia, loro sono pensiero azione. Loro già da tempo stanno lavorando e sono pronti a fare shopping in tutte le attività commerciali, soprattutto nella grande ristorazione, alberghi, pagheremo caro questo momento, perché le mafie compreranno tutto ciò che è in vendita. È vero che comprano dicendo non vi preoccupate perché lasciamo voi a guidarlo, l'immagine sarà quella che rimarrà. Certamente, loro hanno bisogno di prestanome, di persone pulite, questo succedeva anche prima del Covid, però adesso ci sarà un processo di accelerazione, ecco perché bisogna fare presto, a dare soldi, ecco perché le banche dovrebbero fare meno le banche, prestare soldi a interessi più bassi, perché se implode il sistema imprenditoriale, la piccola e media impresa e le banche a chi li presteranno più i soldi.